Scaldiamo! Siete lontanissime, non fa niente. Avete tutti la pallina? Sì! Quattro, tre, due e uno. Tacco pianta e punta! Quattro, tre, due e uno. Cammino! Un bel passo. Non troppo lungo, non troppo forte. Quattro, tre, due e uno. Tacco pianta e punta! Ancora quattro, tre, due e cammino! Abbiamo due lauree vicino. Continuo! L'ultima volta! Tacco pianta e punta! Adesso che non c'è la Giulia che mi dice voglio lavorare con quello, lavoriamo con tutto e via! Non facciamo una scelta! Quattro, tre, due e uno. Cammino! Dalla prossima settimana ci prepariamo per l'utro dell'anno prossimo. Quanti chilometri volete fare? Io direi 120, ma perché pensare in 34? Un piede davanti all'altro! 17! 17! Sì, ma però 17 no, eh! 17 è un peccato! Un piede davanti all'altro! Un piede davanti all'altro! Allora, la 120 ci è preclusa! Perché si deve correre di notte! Non ce la posso fare! Niente! Abbassiamo allora! Abbassiamo il livello, eh! Quella è il livello dell'Italia! Eh? Quella è il livello dell'Italia! No, no, quella non c'è gusto! Eh? Quella non c'è gusto! Andiamo su qui, Andrea! A fare il punto ristoro! A fare il punto ristoro! Il punto ristoro! Fai tutte le cose all'altro! Eh beh! Passo lungo! Lungo lungo! Un piede davanti all'altro! Ci vuole una settimana per recuperare! Un piede davanti all'altro! Un piede davanti all'altro! Un piede davanti all'altro! Un piede davanti all'altro! Quindi niente 120, niente 17... Cosa facciamo un 34! Un porsido! Facciamo ristori! Cosa facciamo? Un'altra quota! Un'altra quota! la quota facciamo. Allargo. Dei ristoratori perché avevano utilizzato il vin brulé degli altri. Anche perché uno che corre il vin brulé non so se lo beve. Almeno che non si voglia fermare dopo 5 metri però mi sa che non lo beve il vin brulé. Passo lungo, lento perché la musica è lenta. Largo. Larghi piedi. Ok. Chiudo e scendiamo subito subito. Prendiamo la nostra pallina. Allora, ci possiamo anche appoggiare al tappeto, anzi è consigliabile. Da qui facciamo uno squat single leg, l'altro è sulla pallina, quindi scendo e salvo. Scendo, su, scendo, su, tre, su, quattro, su, cinque, su, sei, su, sette, su, otto e ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due. La Laura mi parte. E uno. Cambio. È faticoso. Non fa niente. Ricordatevi anche in questo caso il peso indietro, ecco. Non in avanti. Dietro. Parti. Oggi. Su. Due. Su. Tre. Su. Quattro. Su. Cinque. Sei. Sette. Otto. e ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Cambio. Ce la facciamo? Sì. Sì. Quante ne facciamo? sedici ancora? Sì. Sì. Siamo. Otto. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. Cinque. quattro. 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 Tre. Due. E uno. Cambio. quattro. 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 Cinque. Sei. Sette. Otto. Ancora. Otto. Sette. Sei. cinque. Quattro. Quattro. Tre. Due. E uno. Sto. Torniamo sul tappeto. Come va? Benissimo. No. Destra e sinistra. E portiamo un ginocchio al petto così stracciamo un po' il gluteo. Su. 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 Due. Su. tre. Su. 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 Quattro. Su. Su. Cinque. Su. Su. Sei. Su. Sette. Su. Otto. Ancora. Otto. Lition. Sette. Su. Sette. Su. Ce. Su. Sette. Su. Cinque. Quattro. Tre. Due. E uno. Centro. Cosa vi viene in mente? Un caschè! No? Non è lunghissima! Abbiamo già utilizzato qualche minuto prima. Giù! E... Qui! Ricordatevi, non spingete il tappeto, ma pensate di appoggiare il ginocchio della gamba dietro. Giù! Giù! La Laura, subito a dirmi, è lunga! Non mi pare! A me pare che sia fortissima! Quanto meno la parte è cantata! Dopo! No, dopo! Sarò buona! Perché è lunedì? Non mi fermo! Sciù e giù! Dopo però recuperiamo! Draiati a terra! Schiena dritta! Salve scendo! Affondo! Giù! Continuo! Sì! Ditemi di venire su, quelli si spegniamo! Così non ridono più! Chi è che ride? Ma vecchi o giovani? Sì! Sì! Uomini o donne? Uomini! Eh! Perché? Perché non sanno! Il giusto dura! Per essere efficace deve durare il giusto! Perché se ne facciamo dieci non basta! Sì! 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 Pallone a gluteo! Su! Su! Una volta non mi ricordo più chi era! Che non me l'ha detto? Vabbè è venuta a lezione a corpo libero! Un uomo! Sono anche doveva essere un moreno! Ma non sono sicura! Non mi ricordo più! Comunque vabbè! L'ho fatto fare gambe! Ma le solite! Cioè non i 150 suoi! Normale! Questo dopo un po' Ma dopo molto velocemente Non ce la faceva più! Ed è arrivato a dire Che il lavoro delle gambe Con affondi e squat Le donne sono più portate! Abbiamo la struttura giusta per fare affondi e squat! Sì perché noi se vedessimo delle donne fare degli affondi Non ci metteremmo a ridere! Diremo poverine! Siamo unite nel vostro dolore! A terra pallina Fra le gambette Qui Allora mettiamo La palla tra le ginocchia Braccia larghe Scendo a destra Senza staccare le spalle Scendo a sinistra Su Alterniamo Anzi prima facciamo tutto a destra va Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Cambio parte Otto Sette Sei Sei Cinque Quattro Tre Due Al terno Destra e sinistra On On Due 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 Tre 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 Quattro 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 Cinque Cinque Sei 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 Sette 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 Otto Otto Nove 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 Ne facciamo dieci 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 E dieci Ok Pallina Pallina Sempre In mezzo Le gambe Questa volta Scendo In salvo On Qui Qui Due Due Qui Tre Qui Quattro Qui Cinque Qui Sei Qui Sette Qui Otto E streccio Treccio Streccio Streccio Facciamo ancora un giro Sì Di tutto Prima da una parte Poi dall'altra Entrambi E poi genotti al petto Giù Sulle gambette Scendo On Su Due Su Tre Su Quattro Su Cinque Su Sei Su Sette Su Otto Cambio parte Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Tenete gli addominali Due Uno Alterno Destra Sinistra Un Un Due 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 Tre Tre Quattro 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 Cinque 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 Sei Sei Sette 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 Otto E otto Salgo Pallina sempre lì Un Giù Giù Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Ne facciamo ancora otto Dai Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E otto Ritorno sul tappeto No Su Glutei Gamba tesa Su E Due Su Tre Su Quattro Su Su Cinque Su Sei Su Sette Su Otto Su Ancora Otto Su Sette Su Sei Su Su Cinque Su Su Quattro Su Tre Su Su Due Su Due Uno Questa volta Slancio Ski Torno Slancio Ski Su Qui E Su Su Qui Su Gamba sempre tesa dietro Su Su Qui 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 Su Su E Continuo Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno E sto Cammino Al centro Solo cammino Un bel passo No Lo Fu Fier Ma Mi Fier Sette Quattro Sette Well Come va? Benissimo! Proviamo a camminare indietro? Sì! Che ho detto sì? Perché so che la Laura dice sì perché dice che cammina in discesa. A me non pare! Dipende come lo fai vuol dire che lo fa male? Mi raccomando la spinta col tallone! Spingete il tappeto col tallone! Un bel passo! Ritmo! Qua! Tre! Due! Uno! Mi giro! Streccio! Su! Su! Streccio! Sentite i quadricipiti poi? Dove? I femorali? Sì! Dovresti sentire il quadricipite? No! Però è femorale! Va bene! Va bene! Quattro! Tre! Due! Uno! E mi ritiro! Conpingo! Non mi fermo! Non mi fermo! da tre! Un pomeriggio! No! Dovresti! Passi! E mi zipito! nel giro e prezzo come va? 4 3 2 e 1 sto accendo prendiamo sempre la nostra pallina mancano glutei in verità mancherebbero anche le braccia la prossima volta facciamo braccia e questa volta le abbiamo abbandonate allora ci mettiamo ballerina pallina la mettiamo dietro in questo modo da qui su 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 2 3 4 5 6 7 8 8 7 7 6 5 4 3 2 e 1 state truffando? non vi siete lamentati? 4 5 6 6 6 6 7 8 6 5 4 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 Sì 12 22 23 24 23 23 24 25 27 27 28 28 Cambiamo esercizio, per vedervi più sofferenti ancora, perché sono soddisfatta. Allora, ora dobbiamo fare la rana, ma tenendo la pallina fra i piedi, quindi scendete in qualche modo e cercate di prendere la pallina, di tenere agganciata i piedi. Siamo? Da qui salgo, su, con tutte e due le ginocchia. Ma non si girano. Su, come non si girano? Dovete, no, staccare le ginocchia da terra. Contraendo i glutei, su, su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Deve venire. Non è che l'altro io do i crampi e continuavo, è questo che non riuscite voi non lo fate, no. Se volete potete anche avvicinare le ginocchia e farlo da qui. No, 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 due, no, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. La Laura mi ha chiesto, possiamo senza palla? Gli ho detto di no. Però tu non me l'hai chiesto, capito? Però la palla ho chiesto. Va bene. Ancora un, una. Va. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno. Pronto al palimento. Allungo bene tutta la schiena. Porto le mani vicino le spalle e sollevo. Allora. No. Lo usiamo come stretching, quindi allungo da una parte, salgo e allungo dall'altra. Lo usiamo come stretching, non come esercizio. Ancora una volta, su, cambio, salgo e l'ultima volta di qua. E su, mi siedo, qui, mento il petto, salgo, srotolo la colonna. E giro le spalle. Respiro su. E giù. Ancora una. Su. E fuori tutto giù. Bravo. E fuori tutto giù. E fuori tutto giù. E fuori tutto giù. E fuori tutto giù.